buongiorno a tutti siamo qui con reginaldo palermo vice direttore della tecnica della scuola per parlare di valutazione del comportamento degli studenti e della riforma del voto in condotta di cui si parla da mesi professore a che punto siamo allora siamo a questo punto che queste norme erano state inserite inizialmente all'interno del disegno di legge sulla riforma della filiera tecnologico professionale poi alla fine del mese di novembre questa parte è stata stralciata ed è diventata un disegno di legge autonomo e questo disegno di legge proprio in questi giorni sta iniziando il suo iter parlamentare presso la commissione cultura del senato quindi in questo momento siamo al punto che il disegno di legge sta iniziando ad essere discusso bene parliamo invece del contenuto di questo disegno di legge cosa prevede quali sono i provvedimenti più importanti ma allora diciamo che in sostanza si prevedono una serie di modifiche alle norme esistenti in materia appunto di valutazione del comportamento intanto per la scuola secondaria di primo grado è prevista la introduzione del voto numerico per il comportamento quindi la valutazione sarà espressa in decimi e il dato importante è che per tutta la secondaria sia primo grado che secondo grado se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi è diventa automatica la non ammissione alla classe successiva cioè la bocciatura oppure la non ammissione all'esame di stato conclusivo o l'esame di stato del primo ciclo o l'esame di stato finale cioè la cosiddetta la cosiddetta maturità ecco queste sono sostanzialmente le norme principali poi si prevedono anche delle modifiche relative alle modalità delle sospensioni degli alunni dalla dalla frequenza scolastica bene invece con quali modalità verrà discusso questo disegno di legge allora questo disegno di legge verrà esaminato e approvato con una modalità un po particolare si chiama la modalità della sede redigente cioè in altre parole la commissione cultura del senato dovrà approvare il provvedimento esaminandolo articolo per articolo mentre all'aula del senato spetterà soltanto il compito di dare diciamo il voto finale cioè l'approvazione conclusiva questa è una tecnica che comporta un certo quale risparmio di tempo nella procedura di approvazione del provvedimento bene parliamo invece di un argomento che magari interessa molti docenti parliamo delle tempistiche quando entrerà in vigore questo provvedimento ecco allora qui sui tempi c'è da dire questo che il provvedimento prevede anche l'emanazione di un regolamento questo regolamento dovrà essere emanato entro 180 giorni dalla entrata in vigore della della legge stessa quindi questo vuol dire che i tempi sono davvero stretti perché siamo alla metà di gennaio nella migliore delle ipotesi questo provvedimento potrebbe essere approvato dal senato nelle prossime due o tre settimane ma questo proprio veramente se il senato dovesse correre poi c'è ancora il passaggio alla camera il regolamento dovrà essere in ogni caso approvato entro il 31 di agosto del 2024 per far sì che le norme entrino in vigore il primo di settembre del 2024 se si sfora c'è il rischio appunto che il questa riforma non è non possa entrare in vigore a settembre del 24 certo si tratta di una vera corsa contro il tempo praticamente ehm eh concludiamo parlando invece delle eventuali modifiche che può subire questo disegno di legge potrà effettivamente subire delle modifiche ST quali potrebbero essere? Allora diciamo che visti i tempi io credo che ehm il ministero sarà intenzionato ad evitare il più possibile eh modifiche eh importanti che possano prevedere ehm diciamo molta discussione eh molta discussione in Parlamento per cui io credo che grandi modifiche non ci saranno ma questa è una mia opinione eh probabilmente ci potrebbe essere una modifica eh spinta soprattutto da Fratelli d'Italia perché è eh sono un paio di mesi perlomeno che eh diversi parlamentari di eh Fratelli d'Italia tra cui peraltro anche la stessa sottosegretaria Paola Frassinetti stanno parlando di introdurre il voto numerico nella scuola primaria quindi potrebbe anche darsi che Fratelli d'Italia eh preveda di presentare un emendamento in tal senso. Questo lo sapremo però in tempi eh molto rapidi perché eh già la prossima settimana si eh eh entrerà nel vivo del dibattito in commissione e penso che intorno al 20-25 gennaio eh scadranno i termini per presentare gli emendamenti. Quindi diciamo tempo 15 giorni e sapremo esattamente qualcosa di più. Bene bene grazie a Reginaldo Palermo vice direttore della tecnica della scuola per queste risposte e ci vediamo al prossimo approfondimento. Arrivederci. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti.